qui sotto si può giocare ci si può anche nascondere c'è anche tanta tensione visuale mamma veniva a giocare qui è meglio che ti nascondi mio confusissimo amico uno sto arrivando due sono vicina tre manca poco quattro non hai scampo cinque sei finito pronto o no io qui sta ti vedo caro tappetto qui serve una strategia lui è veloce ma io sono molto più furba gli do almeno due piste eccomi qua mi è passata davanti becca becca eccomi tyler sta arrivando no no tyler tyler no 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 adesso ti prendo ti vengo a prendere becca no 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 stasera faccio lo sformato di pollo ma che cavolo è stato che desidera salve sono il dottor Sam lavoro nell'ospedale dove vengono i vostri nonni tu devi essere becca non 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 no non no non no Grazie a tutti.